buon salve oggi vedremo molto velocemente quali sono le nuove funzioni aggiunte nel s 1.3 stiamo utilizzando una funzione di prova da non utilizzare assolutamente per progetti importanti perché si possono corrompere si trova facilmente nel sito nella sezione download c'è una sezione alfa lms 1.3 alfa io sto utilizzando la alfa 1 vediamo subito quali sono le prime funzioni che diciamo di cui ci accorgiamo subito intanto è interfaccia leggermente migliorata puoi cercare si possono cercare le cose audio file pressi ho messo a e ci sono tutte quelle che contengono una posizione 3s f2 insomma è abbastanza veloce c'è un nuovo plugin che si chiama expressive non l'ho ancora studiato c'è un help quindi devo chiaramente leggere questo è per capire come funziona è un po complesso però sembra molto interessante potrebbe essere si può anche disegnare potrebbe dico potrebbe perché non so essere un carinissimo sostituto di serum e di vital insomma di questi plugin così ma non c'è un sostituto vero e proprio perché non ho capito che non c'è un morphing tra più forme d'ondo forse sì forse sì sì queste sono tre forme d'onda e forse qui si controlla tipo l'interpolazione tra queste forme d'onda devo devo vedere molto interessante poi seconda funzione sono stati che funzioni più che altro c'è una novità sono stati aggiornati plug in l'azpa tutti quelli che qua c'hanno scritto l'azpa sono stati aggiornati eravamo una versione vecchissima alla 0.18 e siamo alla 0.90 adesso quindi ce ne saranno di nuovi alcuni potrebbero essere modificati non ho idea di quali siano non ho guardato però sì ci sono dei karaoke non so questo forse riduce la voce non lo so vedremo questo era un plugin già conoscevamo niente non so quali sono modificati però ci sono di modificati non sono assolutamente quali z1 cos'è z1 seta 1 beh non lo sappiamo vabbè lasciamo perdere poi prossimo aspetto nuova versione dello spectrum analyzer dunque se vi ricordate lo spettone laser diciamo facciamo un po piangere e adesso no adesso è carino dovrei aprire forse il progetto che ho fatto appositamente per questa versione lo apriamo subito si vado a trovare eccolo questo è un progetto che ho scaricato e che ho leggermente modificato vedete un'altra nuova funzione il fatto che si possono colorare le tracce come vedete sono colorate sia qua che nel mixer il mixer lo devo colorare a parte se non ho capito male mettiamo play e ascoltiamo ascoltiamo non atti e vediamo come funziona spectrum analyzer abbasserò il volume così mi sento io e mi sentite voi quindi insomma come vedete funzione molto interessante diciamo questa è una cosa che è presente in altri in audio workstation e adesso ce l'abbiamo anche noi abbiamo lo spettrogramma e abbiamo diciamo la l'effetto questa waterfall questo è lo spettro questo sarà lo spettrogramma prendono un strumento così ce l'abbiamo apportato in uno strumento che si senta per favore sì ok questo si sente quindi come vedete metto qualche cosa di più lento ok quindi qua abbiamo lo spettro come dicevamo prima e questo è uno spettrogramma quindi creato prendendo lo spettro nel tempo e questo può essere molto utile per riconoscere varie parti della musica poi è interessante fare mixing in questo momento io ho diviso i canali stereo però potremmo averli uniti e quindi non abbiamo le informazioni sulla differenza tra i due canali è molto molto carino interessante finalmente ce l'abbiamo prima era pessimo bene e questo è questo poi abbiamo un nuovo vector scope che non ho idea di cosa sia non l'ho ancora aperto suppongo sia un effetto vector scope sì effetto s destra e sinistra questo non me lo aspettavo cos'è questo ai quali ti scala logaritmica persistenza questo è un strumento che ho visto in altri in altri programmi è molto utile quando si vogliono mixare bene alcune cose attraverso e sinistra in particolare quando una musica viene ascoltata è stata fatta in stereo e viene messa in mono quello che vedete qua dentro può aiutarvi a fare in modo che quando viene messa in mono non scompaiano degli strumenti non potremmo fare un attimo un esempio chiaro su questo dovrebbe essere abbastanza semplice perché il master è rivesto verde interessante vector scope ok adesso pigerò una sinusoide una sinusoide bene ok quindi come vedete quando i canali sono uguali magari metto un volume un pochettino più basso abbiamo una linea verticale questa cosa è sostanzialmente monofonica tutti e due canali sono uguali quando invece i due canali sono diversi tra loro in particolare come posso fare per fare questa cosa posso mettere questo in panning di qua questo lo metto uguale al primo questo in panning di là adesso sono uguali quasi 15 e 15 per sono lo stesso semitono ah ok c'era un pochettino di basso ok se io questo qua lo metto al contrario lo posso fare questo io? si posso ok intonazione fare se stereo no? questo è un strumento di fa, lo metto a 180 gradi quindi questo è al contrario adesso destra e sinistra sono uno l'opposto dell'altro e quindi come vedete la linea è orizzontale questo quando viene messo in mono non si sente più quindi tutto ciò che rimane in verticale sulla linea verticale si sentirà sempre e sostanzialmente non c'è nessuna variazione stereofonica tutto quello che è in orizzontale vuol dire che è sostanzialmente opposto e quindi viene annullato bisogna trovare una via di mezzo sostanzialmente questo è un pianoforte ecco il pianoforte come vedete comincia uguale e poi c'è il riverbero il riverbero lo fa andare un po' a destra e a sinistra quindi ci sono le cose che in mono potrebbero cancellarsi ma sostanzialmente va bene tra l'altro forma questo bellissimo cerchio le forme cambiano a seconda della nota sono curioso di vedere cosa succede se io aggiungo un controllo all'altezza bello questo pianoforte molto interessante a me tutto questo sto registrando il suono si si assolutamente si ok prossimo quindi questi sono alcuni plugin nuovi e poi ci sono una serie di funzioni nuove quindi queste le vedremo molto più brevemente la prima funzione interessante è l'esportazione in flak finalmente quindi adesso quando facciamo esporta possiamo scegliere flak e possiamo esportare in flak la finestra di esportazione è più semplice sono tolte tutte le cose che non ci interessano ci sono soltanto render loop e dissection possiamo renderizzare più volte i loop molto interessante ok quindi insomma queste sono le cose che conosciamo adesso c'è anche il flak quindi abbiamo oggi mp3 wave e flak poi permetti tagliare inizio un blocco della traccia campione io qualche cosa metto nella traccia campione cosa metto nella traccia campione si ok quindi creiamo un blocco di traccia campione ok quindi adesso non solo possiamo tagliare di qua intanto facciamo una bellissima cosa non solo possiamo tagliare di qua ma possiamo anche tagliare di qua interessantissimo si insomma non c'era niente qua però insomma si può fare non so se vedete il cursore quindi adesso si crea questa non mi piace moltissimo perché si crea tipo dal nulla ok questa traccia la posso colorare vero? set random color si si può colorare anche la traccia campione è bellissimo ok prossima funzione permettite ok questo c'era supporto per soundfont3 sf3 suppongo ci sia già si ok sf2 sf3 forse bisognerebbe cambiare il nome di questo plugin perché non è più sf2 player ma è il soundfont player generico non ho soundfont3 da utilizzare non so cosa cambia se ci sono le funzioni in più probabilmente si comunque si può fare le note fantasma le note fantasma pigliamo un progettino ok prendo questo progettino quindi per esempio noi abbiamo qua queste note in questo strumento ok come si utilizza la nota fantasma? in realtà non lo so quindi creiamo questa cosa si metto fantasma forse devo prendere questo mettere fantasma ah si tasto destro set as ghost in piano roll quindi imposta come ghost nel piano roll quindi quando apro questo tada ci sono qua e quindi io so che note sono state suonate posso posso giocarci posso copiarle posso fare le stesse cose oppure posso anche fare delle altre cose adesso posso portarla sopra e questa pure quindi adesso potremmo tipo suonare queste due cose insieme scussemo grazie ok ci sono riuscite chissà perché non va benissimo questa cosa che è successo al loop ah ok non che la cosa abbia senso comunque si può fare ci sono le ghost no quando voi avete qualsiasi cosa potete impostarla come note fantasma e questo verrà visualizzato quindi potete scrivere note da un'altra parte sapendo quali erano le note che c'erano qua ha senso perché quando voi fate degli accordi avete tipo un pad con degli accordi volete scrivere una melodia che vada bene con quegli accordi vi serve sapere che note c'erano a me capita spessissimo di scrivere melodie non sapere cosa scrivere e non ricordarmi che note ci sono sotto che so per esempio qua c'è questo basso che fa questo movimento così lo posso impostare come ghost note e quindi posso decidere di andare qua ok quindi questo il basso fa così qui c'è il mi qui c'è il sol allora qui magari dove c'avevo non so il mi come faccio diventare un sol non lo so ci posso fare delle cose so che so cosa succede sotto non devo andare a riguardare tutto il tempo cosa c'era scritto qua perché tanto sono ghost note le ghost note si possono immagino disattivare si disattivano si cancellano premendo questo pulsantino ok possiamo esportare i loop in ripetizione questo l'abbiamo visto scrittura delle note tramite tastiera o midi quindi adesso c'è la possibilità di registrare le note in un certo senso quindi mi pare che sia questo pulsante si quindi come vedete adesso ci sono qua dei blocchettini che corrispondono a qualcosa ah ok ok interessante molto interessante devo dire ma questi blocchettini come si cambiano step step e chi decide questi step cioè se io faccio per terzine per esempio no ok devo studiarmi come funziona questo discorso degli step comunque c'è possiamo sempre registrare così ovviamente possiamo sempre farli nessuno ce lo vieta però adesso abbiamo anche gli step possiamo registrare per step senza dover stare lì a fare le cose allo stesso tempo diciamo possiamo anche scrivere le cose quando vogliamo però il concetto è che lui le registra in quegli step può essere utile andiamo avanti traccia campione ora possono essere assegnate al mixer yes prima non si poteva fare quindi poco fa avevamo questa traccia campione no se noi premiamo su traccia campione come vedete la finestra un pochettino cambiata si può assegnare a un canale del mixer possiamo anche andarci da qua suppongo sì ci sono gli effetti c'è anche un volume il panico che sono gli stessi che sono qua non mi ricordo se c'erano prima forse no comunque questo è un grande passo avanti finalmente possiamo mettere cose nel mixer prima non si potevano mettere i campioni nel mixer che non aveva senso poi snap nel song editor si intanto insert bar oh finalmente abbiamo dei pulsanti per fare questa cosa yes adesso c'è lo snap come vedete lo snap può cambiare quindi prima lo snap era soltanto il singolo blocco adesso si può fare anche a mezzo blocco e quindi in generale qua abbiamo impostazioni dello snap che ci permette di spostare le cose precisamente anche a metà della barra quando vogliamo velocemente andare a un'impostazione più precisa possiamo premere questo pulsantino diciamo una sorta di zoom dello snap senza ah ok no ok quindi sostanzialmente questo qua dipende dallo zoom quindi qui più noi zoomiamo più possiamo snappare meno zoomiamo meno possiamo snappare suppongo sì esatto qui possiamo snappare soltanto a due barre alla volta prima però meglio allungarlo un attimo ma questo non si può allungare vabbè insomma si può fare allunghiamo questo ok torniamo indietro adesso possiamo snappare soltanto a due a due molto interessante ok andiamo avanti zoom verticale nel piano roll non me la ricordavo questa cosa zoom verticale nel piano roll che bello vabbè insomma può essere utile andiamo avanti descrizione dei parametri di VST apriamo un VST quindi vendiamo vestige apriamo un VST che si apra prima di domani Sint1 oddio forse proprio Sint1 non ce l'ha sta cosa può essere comunque facciamo lasciamo che si apra Sint1 sperando che si apra perché ho la leggera sensazione che non si aprirà find out on the next episode ci ha abbandonati ok si è aperto yes si è aperto ok quindi adesso se io vado nei controlli uhuh abbiamo delle descrizioni non mi ricordo quanto di queste c'erano però insomma ci sono ok ci sono passiamo avanti abbiamo messo mezz'ora per aprirlo assegnazione automatico strumento media e strumento selezionato come per essere copiato ah si vabbè qua mi servirebbe una tastiera MIDI in pratica quello che dovevo fare prima per assegnare una tastiera MIDI a uno strumento era di andare qua e fare MIDI ingresso il vostro device e poi impostare tutto eventualmente il canale e poi quando uscivate dovete toglierlo insomma adesso invece oltre a questo ho messo un MIDI uscita che non mi serviva ok adesso oltre a dover fare questa cosa quando vogliamo assegnare una tastiera a uno strumento specifico possiamo comunque suonare lo strumento quando lo apriamo come succede per la tastiera del computer quindi adesso quando voi avete uno strumento MIDI attaccato questo suonerà anche lo strumento attivo visto diciamo quello che vedete di cui vedete la che avete selezionato sostanzialmente di cui vedete l'interfaccia spero che sia stato chiaro si possono colorare i canali del mixer si possono colorare le tracce del songgator quindi come abbiamo visto per colorare le tracce del songgator possiamo andare qua e scegliere un colore oppure possiamo anche farlo con le tracce del mixer set accendere il color ok queste sono tutte le funzioni che mi sento di raccontarvi ce ne sono ovviamente tante altre tanti bug fix tante questioni risolte modificate quello che volete ma non ci entriamo nel dettaglio spero che questo basti come una vista generale della situazione sono molto contento che le cose si stiano finalmente muovendo per il verso giusto perché proprio c'è una spinta forte di sviluppo ultimamente molto molto bello in generale qua come vedete oh wow potete anche togliere i factory preset io sono proprio ah fantastico potete selezionare le cose vostre le cose diciamo che vengono già sull'NMS quindi così togliete le cose se vengono dell'NMS così togliete le cose vostre io non so ah ci sono dei sentiamo un pochettino cosa è che non devi fare expressive interessante baby violin sono molto curioso non mi sta ok non mi sta colpendo particolarmente forse se gli metto un multichorus la cosa migliora no suppongo che ne creeranno di migliori per ora è ancora un po' presto vabbè è stato interessante vabbè suppongo che migliorerà magari mi ci metto pure io chissà bene questo è tutto ci sentiamo prima o poi buon anno ciao ciao alla prossima ciao ciao ciao